Sì, è stata un'ottima gara, una gran bella partita e personalmente devo dire che non posso impropriare niente ai miei ragazzi hanno fatto la prestazione, hanno dato ritmo, si sono sacrificati, hanno corso, hanno dato qualità, hanno creato poi naturalmente purtroppo dispiace che non abbiamo portato a casa nessun punto però il campionato è ancora lungo e noi secondo me siamo sulla strada giusta perché cresciamo di partita in partita, naturalmente analizzeremo tutti gli errori però è anche vero che sugli episodi nell'ultimo partita ci ha detto un po' male Si fa fatica a vedere il Monterosi in quella posizione di classifica perché oggi la squadra ha dimostrato di essere a buon livello dal punto di vista tecnico e anche per l'intensità che ci ha messo la gara, quindi diciamo che potrebbe essere un mare di stagione Sì, quello sì, è quello di buon auspicio proprio perché, ripeto, le prestazioni ci sono sempre oggi abbiamo dato prova di carattere, di reazione, abbiamo corso fino alla fine della partita abbiamo dato qualità, abbiamo creato, naturalmente incontrando una squadra molto forte quindi sono dei presupposti per continuare a lavorare, naturalmente bisogna migliorare perché la classifica parla chiaro però, ripeto, sono soddisfatto e sono molto contento dei miei ragazzi Un'ultima cosa, mister, è giusto il risultato di oggi? Ma, secondo me, con le azioni che abbiamo avuto l'una e l'altra parte ci poteva stare anche un pareggio soprattutto alla fine abbiamo avuto due occasioni importanti, anche loro ne hanno avuto però, insomma, loro sono stati più incisivi, però credo che alla fine non portare nessun punto a casa per noi è veramente poco